Sono sicuro che conosci già la frequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti in un minuto. Ma c'è un altro valore molto importante che ti aiuta a conoscere i tuoi livelli di stress. Si chiama variabilità della frequenza cardiaca, in inglese HRV, e consiste nelle piccole variazioni che ci sono tra un battito e l'altro. Ecco, più il cuore batte regolare, quindi più la variabilità cardiaca è bassa, più saremmo stressati e staremmo peggio. Al contrario, più la variabilità cardiaca è alti, quindi i battiti sono irregolari, minori saranno i nostri livelli di stress e maggiore sarà il nostro livello di benessere. Grazie.